Roma, 3 ottobre 1931, le 8 di sera. Un aereo bianco e rosso scende basso sui tetti, a 500 metri di altezza, forse meno, e getta migliaia e migliaia di manifestini, soprattutto su piazza Venezia, sul palazzo dove da due anni è andato a vivere il dittatore, sull'altare della patria, il corso, piazza Colonna, piazza di Spagna, la gente sembra indifferente, pensa a una trovata pubblicitaria, poi capisce e comincia a guardare sempre più trepida, i manifestini sono messaggi antifascisti, il piccolo aereo continua i lanci per mezz'ora, poi si allontana indisturbato. La mattina dopo i giornali minimizzano la notizia, confinata a una colonna nelle pagine interne, erano foglietti dell'alleanza nazionale, c'era un appello ai cittadini, chiunque tu sia, tu certo imprechi contro il fascismo e ne senti tutta la servile vergogna, ma anche tu ne sei responsabile con la tua inerzia, non cercarti un'illusoria giustificazione col dirti che non c'è nulla da fare, non è vero, tutti gli uomini di coraggio ed onore lavorano in silenzio per preparare un'Italia libera. L'alleanza nazionale era un movimento antifascista, liberale e conservatore, che si ispirava ai principi della monarchia costituzionale. Il programma era quello di diffondere notizie contro il fascismo, di promuovere un'unione di tutti i partiti che si riconoscevano nello statuto, di organizzare un'azione legale degli uomini d'ordine liberali, cattolici, monarchici. Creata nell'estate 1930 da Lauro De Bosis, fondava la sua azione soprattutto sulla propaganda. Tra il giugno e l'ottobre di quell'anno De Bosis scrisse otto circolari che spiegavano la situazione politica, economica e sociale del paese. Ciclostilate in 600 copie furono impostate a Roma e nelle città dell'Italia settentrionale. Il sistema adottato era quello della catena, diceva la prima circolare. Riceverai ogni 15 giorni una lettera simile a questa. Fanne 6 copie e spediscile a 6 persone, sempre le stesse. Almeno 2 copie mandale a fascisti. La maggior parte di essi ha perso fede in un'idea che ha impoverito il paese e in un capo che non sa circondarsi che di disonesti o di netti. Lauro De Bosis era nato a Roma nel 1901, ultimo di sette figli. Suo padre Adolfo era un letterato, amico di Pascoli e di D'Annunzio. Sua madre era un'americana. Il loro salotto era di moda nella Roma degli anni 20. Laureato in chimica, Lauro era attratto dalla poesia e dalla filosofia, tradussele di Poré e l'Antigone di Sofocle e il prometeo incatenato di Eschilo. Nel 1927 scrisse Icaro, una tragedia in versi. La storia del figlio di Dedelo che con le ali forgiate dal padre fugge dal labirinto e dalla tirannia di Minosse, ma vola troppo vicino al sole, si brucia e precipita in mare. Chiamato negli Stati Uniti dalla società Italia America di New York, tenne conferenze letterarie e filosofiche e un corso d'italiano all'università di Harvard. È in quegli anni che matura la sua passione politica e civile. Nel 1930 torna in Italia per le vacanze, con il proposito di passare all'azione. Fonda così l'alleanza nazionale, incoraggiato da personalità diverse, Benedetto Croce, Umberto Zanotti Bianco, padre Enrico Rosa. Conosce quell'estate Mario Vinci Guerra, studioso di storia e di letteratura, e Renzo Rendi, un giovane giornalista che collaborano con lui. Nell'autunno riparte per gli Stati Uniti, conta di rimanervi poche settimane. Ha infatti deciso di vivere definitivamente in Italia, dove ha affidato agli amici durante la sua assenza il proseguimento della sua opera, la scrittura e la distribuzione delle circolari dell'alleanza nazionale. Ma il 28 novembre 1930, Mario Vinci Guerra, già ammonito dalla polizia, viene pedinato dagli agenti e sorpreso mentre imbucca le circolari dell'alleanza nazionale in una cassetta postale presso la chiesa nuova a Roma. Vinci Guerra viene arrestato. Anche Rendi. L'appartamento di De Bosis è perquisito. Nella lavanderia sotto un materasso, la polizia scopre il ciclostile e i pacchi di circolari dell'alleanza. È arrestata anche la madre di De Bosis. Si monta un processo politico. Il tribunale speciale condannerà Vinci Guerra e Rendi a 15 anni di carcere per istigazione a sollevarsi contro i poteri dello Stato. La madre verrà assolta. In viaggio sul piroscopo che lo conduce in Italia, vicino alle coste dell'Inghilterra, De Bosis viene avvertito dal telegramma di un amico di ciò che è accaduto a Roma. Suo primo impulso è di continuare il viaggio, tornare, farsi arrestare, condividere la sorte dei suoi amici. Viene dissuaso. Leale e candido com'è, vive giorni di profonda angoscia tra il rimorso e il desiderio di azione. Dall'Inghilterra si trasferisce in Francia, dove trova un posto di portiere in un albergo di Parigi, Rue de Pontio 24. Guadagna 800 franchi al mese e ne invia 500 alla moglie di Rendi, rimasta sola con due gemelli e un bambino che sta per nascere. È in quel periodo che comincia a pensare al suo volo su Roma, alle migliaia di messaggi antifascisti che può gettare ad un solo colpo sulla città, un atto di protesta e di coraggio, la sua rivincita morale. De Bosis riceve le prime lezioni di pilotaggio, si allena fuori mano in un campo privato di aviazione vicino a Versailles. Il 24 maggio 1931 fa il suo primo volo. La notte fra il 2 e il 3 ottobre scrive in francese la storia della mia morte, una testimonianza da far pubblicare in caso di disgrazia e la spedisce per posta l'amico Ferrari. Domani, alle 3, su un prato della costa azzurra, ho un appuntamento con Pegaso. Pegaso è il nome del mio aeroplano, l'ho trovato nella foresta Ercinia e il suo ex padrone me lo porterà sulle rive del Tirreno, credendo in buona fede che abbia da servire agli svaghi di un giovane signore britannico. Ma non andremo a caccia di chimere, andremo a portare un messaggio di libertà a un popolo schiavo di là dal mare. Dopo aver sorvolato a 4.000 metri la Corsica e l'isola di Monte Cristo, arriverò a Roma verso le 8, facendo gli ultimi 20 chilometri a motore spento. Sebbene non abbia per tutta esperienza che sette ore e mezzo di volo, se cado non sarà per errore di pilotaggio. Il mio aeroplano non fa che 150 chilometri all'ora, quelli di Mussolini ne fanno 300. Egli ne ha 900 e han tutti ricevuto l'ordine di abbattere ad ogni costo qualunque aeroplano sospetto. Il mio aeroplano non fa che caccia di divino di fuoco maggiore, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Libero per liberi, che accerchia le diverse genti sfatte da odio in una sola azzurra patria, luminosa e immensa. Grazie a tutti. L'avviazione di Balbo si levò mezz'ora dopo che l'aereo fantasma, finite le sue evoluzioni su Roma, sparì verso il mare. Di quell'Icero 1931 non si seppe più nulla.